Fino al 18 settembre il Piemonte è attraversato da una carovana di attori e musicisti capaci di raccontare storie di guerra e liberazione. La rassegna estiva Voci dei Luoghi è promossa dal Consiglio regionale dal Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con Unce in Piemonte e Consiglio Provinciale di Torino. I comuni montani coinvolti sono 24, individuati in 18 comunità montane delle diverse province piemontesi, dove verranno rappresentati gli spettacoli di quattro compagnie teatrali. Nel mese di agosto le date principali, in particolare a Billarpellice il 3 con la storia di Willy Gervis, il 17 a Formazza in Valdossola, sul sito www.cr.piemonte.it il calendario completo.